Vaccini, torna AstraZeneca al Monaldi, da lunedì ci si sposta all'Ex-Restò. Onlus Gulliver dona un defibrillatore al Santa Marta. Giornata della gentilezza, Tavuglia, onore nuovi nati con un'opera di calcagnini. Sport, la VL accoglie Bois, nel pano si dimette destro prima del derby con la Vis. Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati al nostro appuntamento con Rossini News, telegiornale di lunedì 22 marzo che apriamo facendo il punto sui vaccini a Pesaro dove si procede con 700-800 inoculazioni al giorno circa al centro Monaldi dove da ieri è tornato a somministrarsi il siero AstraZeneca. Anche oggi si è proceduto con questo vaccino alla celletta mentre dal 29 marzo ci si sposterà all'area dell'Ex-Restò del Rossini Center. Vediamo il servizio. Sono ricominciate ieri, domenica 21 marzo, le vaccinazioni con il siero AstraZeneca, inizialmente ritirato a titolo precauzionale e ora tornato a regime anche qui a Pesaro, anche qui al centro vaccinale Monaldi della Celletta dove oggi lunedì 22 marzo c'è la seconda giornata di vaccinazioni di nuovo soltanto con il vaccino AstraZeneca. Oggi avevo l'appuntamento, non sapevo che c'era l'AstraZeneca ma tata ero qui l'ho fatta, mi fido dai, va bene la stessa. Le procedure organizzative sono andate in maniera sciolta, come sperava? Ho aspettato un pochettino ma insomma dai va bene bisogna accontentarsi, siamo in parecchi. Abbiamo prenotato per il vaccino Freiter, no? Invece siamo arrivati che c'era l'AstraZeneca e l'abbiamo fatto, non abbiamo pensato niente. Com'è stata l'attesa, la procedura? Tutto bene, siamo arrivati, è arrivato il nostro turno, siamo entrati, l'abbiamo fatto. Io personalmente non ho mai avuto alcun dubbio, sicuramente poi quello che è accaduto ci ha ulteriormente confortati della qualità, della bontà del prodotto, del vaccino, quindi no, io non ho mai avuto nessun dubbio. Prima volta che si fa il vaccino e quindi prima volta in questo centro vaccinale, come si sta svolgendo la procedura? Allora io se posso dire mi aspettavo una cosa un po' più veloce, così, detto molto semplicemente, però ci sta, ci sta, sta funzionando tutto, i tempi sono piuttosto lunghi, questo sì, rispetto insomma agli orari che ci indicano, forse ingenuamente ho immaginato di potermela sbrigare nella fascia d'orario indicata, però nessun problema, insomma, si sta qui, si pazienta. Ed ora ci troviamo al Rossini Center della Torraccia, più precisamente nell'area esterna all'ex Risto, ex area di ristorazione, che da lunedì 29 marzo diventerà il nuovo punto vaccinale della città di Pesaro. Va infatti in archivio il centro Monaldi della Celletta da giovedì, dopodiché da venerdì inizierà le operazioni di trasloco, perso questa struttura di 1200 metri quadrati, che è stata cominciata a liberare da sabato dai volontari della protezione civile e dalla Onlus Gulliver, un nuovo punto vaccinale in cui si conta di raddoppiare le dosi somministrate ai cittadini. Attualmente si viaggia attorno alle 800 dosi giornaliere al centro Monaldi. Qui all'ex Risto si conta di arrivare a circa 1500, come ci spiega anche l'assessore all'operatività Enzo Belloni, si conta di partire con 1000 somministrazioni e poi magari di riuscire ad allargarsi anche ad altri punti vaccinali. Punto vaccini dove dovrebbero essere garantiti 1500-2000 vaccinazioni giornaliere. Abbiamo anche avuto la disponibilità da parte di signoretti di Xanitalia di tutta la sua azienda a Villa Fastigi di circa 1000 metri quadrati e quella potrebbe diventare la postazione dove i medici di base possono vaccinare i loro pazienti. Con Asur c'è una collaborazione molto forte, l'abbiamo fatto nel momento dei tamponi e lo continuiamo a fare nel momento dei vaccini. In questo momento le polemiche non servono a nessuno, serve solo far squadra e ottenere un risultato che ci faccia uscire da questa situazione particolarmente critica. Aspettando l'attivazione dell'area ex-Ristò e di eventuali nuovi punti vaccinali in città, questa settimana si procede fino al 25 marzo con le somministrazioni al Monaldi dove domani, martedì 23 marzo, tornerà il vaccino Pfizer, ma solo per le seconde dosi. Per chi deve ricevere la prima inoculazione si dovrebbe continuare a procedere con il solo siero AstraZeneca fino all'arrivo di nuove forniture Pfizer. Intanto l'Asur comunica che chi aveva la prenotazione per il vaccino lo scorso giovedì 18 marzo al Monaldi, la somministrazione è stata riprogrammata a mercoledì 31 marzo nella nuova area dell'ex-Ristò. Covid da debellare con i vaccini e da indebolire con le terapie degli anticorpi monoclonali che dalla scorsa settimana si sono cominciati a utilizzare all'ospedale di Pesaro Marche Nord. Ospedale che ieri ha ricevuto la visita del vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, che ha incontrato l'equip del dottor Gabriele Frausini dicendosi orgoglioso di questa innovativa terapia e ringraziando nell'occasione anche il direttore sanitario Maria Capalbo e l'assessore regionale Filippo Saltamartini per il cambio di passo dato all'assenità regionale. Ed ora l'aggiornamento consueto sui dati del Covid-19 nella nostra Regione che nel weekend ha purtroppo superato quota 2.500 morti marchigiani da inizio pandemia considerando anche gli ultimi 11 decessi registratisi nella giornata di ieri. Per quanto riguarda i contagi si attesta ad un altissimo 31,8% il rapporto di oggi fra positivi e test. Però ricordiamo che si tratta di una giornata particolare, quella del lunedì, come di consueto infatti si registrano meno tamponi dopo il weekend. Nello specifico sono 265 nuovi positivi nelle Marche, 24 dei quali nella provincia di Pesaro Urbino, all'interno di 833 nuove diagnosi per un totale di 1.832 tamponi effettuati. A preoccupare però sono soprattutto i ricoveri saliti a 920 nelle Marche con ben 152 degenze in terapia intensiva. E a proposito di tamponi, dopo l'operazione Scuole Sicure il comune di Pesaro lancia anche Sport Sicuro. Sabato infatti al campo scuola di Viare Spighi il sindaco Matteo Ricci e l'assessore con delega allo Sport Mila della Dora hanno donato 2.500 tamponi alle società sportive, 30 società sportive in particolare che ne avevano fatto richiesta. A ricevere questa simbolica consegna le società di pentaton, volley e ciclismo Gabbiano, Snoopy, Robur e Pantere, Rosa. Vediamo le interviste a tal proposito realizzate da Andrea Sabatini. È fondamentale dare ai nostri ragazzi la sicurezza. I giovani saranno esclusi dalla campagna di vaccinazione. Fino a 16 anni non saranno vaccinati e quelli più grandi verranno vaccinati giustamente alla fine perché adesso si stanno vaccinando i più anziani, poi saranno i disabili, coloro che hanno patologie. Quindi i ragazzi più giovani o non verranno vaccinati o verranno vaccinati quando la scuola sarà finita e la stagione sportiva sarà finita. Quindi questo contributo di 2.500 tamponi che diamo gratuitamente alle società sportive è un aiuto a svolgere la loro attività nella massima sicurezza. A coloro che possono ancora svolgere attività in questi giorni, a coloro invece che la potranno svolgere dopo Pasqua, quando speriamo saremo usciti dalla zona rossa, sono tamponi che potranno usare appunto per la ripartenza. Quindi ci crediamo molto a questo screening continuo, uno dei pochi modi che abbiamo per contrastare la pandemia. Ovviamente il vaccino è la soluzione finale, la risoluzione finale per sconfiggere il virus, ma nel frattempo uno screening periodico nei luoghi, nelle comunità, quindi le scuole, lo sport, sono per noi essenziali. Quindi credo che siamo uno dei pochi comuni che mette risorse proprie per aiutare in questo caso il mondo dello sport, qualche settimana fa il mondo della scuola, per aiutarli appunto ad avere scuole e sport sicuro. Abbiamo il mondo sportivo che è stato fortemente colpito, il mio primo pensiero va alle palestre, alle scuole di danza, ai centri personal trainer, che questi nel 2020 sono stati quasi sempre chiusi. Quindi oltre alla gente che fa attività sportiva, sia a livello agonistico che dilettantistico, ci sono dei professionisti, dei lavoratori, quindi c'è un indotto economico importante, ci sono famiglie veramente in difficoltà. Questo è sicuramente quello dello screening, è quello che abbiamo fatto già e abbiamo dimostrato con le scuole. È un'operazione che ti può permettere di avere una fotografia istantanea, ma se viene fatto costantemente ritengo che sia un metodo veloce, efficace per poter contenere il contagio. Quindi oggi siamo qua, facciamo una consegna simbolica a tre realtà sportive, ma ce ne sono tante altre che hanno fatto richiesta, oltre 30 società sportive, e quindi consegneremo quasi tutto i 3.000 tamponi che abbiamo previsto. E le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad una cinquantina di manifestanti no mask che sabato sono scesi in Piazza del Popolo inneggiando alla cosiddetta Giornata Nazionale della Libertà e della Democrazia. Una manifestazione di dissenso contro le restrizioni che da un anno impone la pandemia, con tanto di mancato utilizzo delle mascherine e mancato rispetto del distanziamento sociale. Le forze dell'ordine presenti sul posto hanno elevato 20 multe, in ottemperanza al mancato rispetto delle normative anti-Covid. Ed ora ci spostiamo all'alberghiero Santa Marta di Pesaro, dove oggi la Onlus Gulliver ha donato alla scuola pesarese un defibrillatore, aprendo la strada a diverse collaborazioni fra la stessa Onlus e la scuola alberghiera. Questa sera alle 21.30 potrete vedere il nostro approfondimento realizzato da Antonio Astuti e Mattia Legrucci, ma intanto ve ne mostriamo un piccolo estratto. Abbiamo donato un defibrillatore che andrà a essere utilizzato all'interno della scuola. Il defibrillatore è un oggetto, ma con il defibrillatore andiamo anche a fare dei corsi agli studenti, una cosa importante, quindi sapere utilizzare lo strumento e fare altre manovre salvavita per il loro lavoro, per la loro realtà, la loro famiglia, per la vita quotidiana, che farà anche curriculum poi agli studenti usciti dall'alberghiero. La cosa fondamentale è che diamo in là all'inizio di questa collaborazione nel rimettere a posto aule, pitturare i muri, pulire ambienti, con i nostri volontari e i nostri tirocinanti. E questa è una cosa bellissima. Tutto questo grazie alla donazione continua di questi beni. In più la cosa bellissima che nasce oggi è questo progetto con l'alberghiero che i pochi ragazzi che vengono sospesi per problemi X dalla scuola, invece di rimanere a casa, saranno con noi i pittori della scuola. Quindi è una cosa innovativa e molto carina questa qui. Ci crediamo molto nella formazione, che è una formazione educazione, perché la ONLUS Gulliver rappresenta anche questo testimonia, diciamo così, la solidarietà che c'è tra le persone. E in questo periodo credo che sia la nostra arma veramente anti-Covid, la solidarietà. Poi di iniziative ne verranno fatte tante altre, anche il discorso stesso dei ragazzi, quelli un po' più vivaci, diciamo così, che magari in qualche modo hanno bisogno di riflettere meglio sulle loro azioni e quindi possono partecipare insieme ai volontari della Gulliver per magari sistemare qualche aula, verniciando ovviamente, non lavori strutturali, però verniciando, rimettendo a posto certi locali per capire l'importanza di comportarsi in maniera corretta con tutti. Usare il defibrillatore vuol dire essere attento ai bisogni degli altri. In quel momento c'è qualcuno in difficoltà e tu intervieni, non stai lì a guardare o a fare chissà che, ma intervieni in prima persona. Quindi direi che è il messaggio migliore che possiamo mandare a tutti. E ve lo ricordiamo ancora, questa sera non perdetevelo lo speciale intero sulla collaborazione tra Gulliver e Santa Marta che sarà trasmesso da Rossini TV alle 21.30. Domani, alla stessa ora, sempre su Rossini TV, canale 633 del Digitale Terrestre, trasmetteremo invece un altro speciale realizzato da Francesca Tricca relativo alla giornata della gentilezza tenutasi ieri a Tavuglia. Una giornata che è stata dedicata ai 48 bambini nati a Tavuglia nel 2020, una giornata che ha visto anche inaugurare nella località di Padiglione una scultura realizzata dall'artista Giannino Calcagnini. Aspettando lo speciale di domani, vediamo un assaggio di questa domenica nella intervista realizzata da Francesca Tricca. Questa è una giornata speciale per noi, a parte che dovrebbe essere il primo giorno di primavera, quindi in questo anno speriamo che porti grandi cose. Lo dedichiamo alla gentilezza, giornata dedicata alla gentilezza ai nuovi nati, questo è un po' il tema, ed è una giornata che ci fa unire due cose importanti. Una è quella di dare un'accoglienza e un sostegno ai nuovi nati, che per noi da qualche anno è fondamentale, e l'altra è scoprire un'opera che viene dedicata a questo territorio e fa parte del progetto che ci è stato proposto, di adesione alla giornata della gentilezza, con un autore, un artista del nostro territorio, e quindi diamo sempre più importanza e sostegno alla nostra comunità. Sperando che questa giornata sia un esempio per tutti, perché la gentilezza potrebbe significare tante cose, può per qualcuno essere banale, ma non lo è mai. Oggi sempre di più vediamo azioni, parole cattive, volgari, e bisogna invece reagire non allo stesso modo, ma in maniera contraria. Per me è una grande forza, e ai bambini possiamo trasmettere solamente questo, una grande forza nella gentilezza. Dalla giornata della gentilezza di Tavuglia a quella di Pesero, dove ieri il Comune e il Centro Aiuto alla Vita hanno piantumato 15 nuovi alberi per il futuro in onore dei 522 nuovi nati a Pesero nel 2020. E questa domenica ha destato stupore vedere una carcassa di delfino spiaggiata sul lungomare di Pesero in prossimità dell'hotel Excelsior. Oggi, dopo il sopralluogo veterinario effettuato dalla Capitaneria di Porto, si è dato il nulla osta per la rimozione da parte degli operatori di Marche Multiservizi. Ricordiamo ai telespettatori che per il recupero di animali in ambito marino va fatta segnalazione opportuna alla Guardia Costiera. Per quanto riguarda invece gli altri animali, è sempre competenza del CRAS Centro Regionale per il Recupero degli Animali Selvatici. Alte Marche si alleano con Slow Food. Il Presidente dell'Unione Montana, Catria Nerone, Alberto Alessandri, e le fiduciarie Slow Food Alessandro Maidani hanno sottoscritto un accordo di programma per la strategia nazionale delle aree interne chiamata Appennino, Basso, Pesarese e Anconetano. Una strategia che interessa nove comuni da Qualagna, da Pecchio, ad Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobico, Serra Sant'Aboglio e Sasso, Ferrato. Un nuovo importante passo condiviso all'insegna della promozione territoriale. E da oggi, lunedì 22 marzo fino al 27 marzo, si celebra la Settimana della Poesia. Una settimana alle quali le scuole pesaresi partecipano con un progetto chiamato Il Pane e le Rose. Progetto che vede come capofila il liceo artistico Mengarone di Pesaro in un evento che coinvolge anche il Mamiani, il Cecchi, il Marconi e il Bramante Genga. Rossini TV celebrerà questa Settimana della Poesia tenendovi compagnia ogni sera con una di queste letture elaborate in forma video dai ragazzi delle scuole. Cominciamo questa sera proponendovi uno dei video di poesie realizzati dall'Agrario Cecchi sotto la supervisione della professoressa Antonella Lucchi. Della tua vuota primavera, all'amore candido dell'inverno farai dono e di lontano le rosse tracce del tuo bene, come corolle dal gelo increspate, diranno di noi la passione. E un altro nuovo programma sta per partire su Rossini TV. mercoledì sera alle 21.30 inizia BP Cube in Forma. Sarà la prima di cinque puntate dedicate a impresa, innovazione e scoperta di nuovi talenti. BP Cube in Forma è un format televisivo di cinque puntate che sarà messo in onda per poter spiegare nel territorio ai giovani che ci stanno seguendo come la nostra istituzione BP Cube, il nostro incubatore e acceleratore di imprese può trasferire innovazione, tecnologie e soprattutto ispirare dei talenti al fine di poterne capitalizzare i loro contenuti e lanciarli in un mercato magari più maturo. BP Cube è uno spazio innovativo a Pesaro di 1200 metri quadrati dove ospita un co-working, dove ospita degli spazi per potersi riunire, poter creare valore aggiunto partendo dall'idea. Vi aspettiamo qua, vi aspettiamo su Rossini TV per scoprire al meglio come questo luogo rende innovativo tutto quello che entra e percorre questi spazi. Ed ora lo sport come ogni lunedì. Questa mattina l'Alma Juventus Fano ha ufficialmente comunicato l'intenzione dell'allenatore Flavio Destro di dimettersi da tecnico dei Granata dopo la terza sconfitta consecutiva maturata ieri per 3-1 a Verona. Comincia dunque con un ribaltone la settimana che condurrà al derby di domenica tra Fano e Vispesaro. Intanto nel prossimo servizio andiamo a vedere quello che è successo nel weekend con i risultati non solo di Vissefano ma anche della VL nel basket e della Italservice nel calcio 5. Dopo la parentesi negli Stati Uniti, Paul Ebois torna alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il ventenne camerunense è sbarcato oggi in Italia e dopo la trafila di quattro tamponi previsti si aggregerà al gruppo di Repesia. Un ingaggio che va a rinforzare una VL che sabato sera alla Vitri Frigorena ha perso 70-75 contro la Virtus Bologna incappando nella terza sconfitta consecutiva. La partita lì è girata secondo me un pochino per il nervosismo e tutto però anche prima secondo me si è stati bravi a rimanere sempre in partita non abbiamo mai mollato soprattutto in difesa nonostante in attacco costruendo anche buoni tiri non abbiamo avuto buoni percentuali. Da lì abbiamo dato qualcosa ancora in più, la zona ci è stata molto utile li ha messi molto in difficoltà e poi alla fine un paio di errori ci sono ancora stati a Cocari. Si sono stati bravi sicuramente in difesa come approccio alla partita, come mentalità tutti si sono stati molto aggressivi ed è il motivo per cui si sono riusciti a rimanere in partita fino all'ultimo pur non avendo percentuali di tiro buoni in attacco. Può succedere, può succedere di non fare canestro, ci succede magari già da un paio di partite da tre partite probabilmente la pausa ancora la sentiamo un pochino addosso però ripeto se la squadra difende, se la squadra costruisce tiri comunque è già un passettino in avanti poi penso che anestro l'ha sempre fatto e torneremo a farlo. Anche se si poteva portare in porto diversamente questa partita però ovviamente è il merito di Pesaro che è riuscita a tornare dopo il nostro buonissimo inizio dopo la nostra buonissima difesa nei primi due quarti. Il piano partita era di pareggiare la loro velocità difendere il loro gioco in transizione dove sono bravissimi con i giocatori che hanno un trattamento di palone veramente eccezionale e con i loro tantissimi handoff e velocità ci potevano mettere in difficoltà comunque siamo riusciti a tirarla su, molto importante per noi, sono molto contento per la vittoria. Sconfitte anche nel calcio per Vispesaro e Alma Juventus-Fano che ora sono attese al confronto diretto nel derby Fanovis previsto domenica 28 marzo alle 15 allo Stadio Mancini. Sconfitte diverse, il Fano a Verona si illude chiudendo il primo tempo in vantaggio dopo aver beneficiato di un autorete per poi crollare 3-1 nel secondo tempo con la Virtus Vecomp. Fano ora terz'ultimo a sei punti dalla salvezza contrassegnata dalla Vispesaro caduta con onore all'ecospetto della capolista Padova che al Benelli soffre nel primo tempo per poi vincere il match nella ripresa con le reti dei subentrati Nicastro e Kresic. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto passare in vantaggio poi l'equilibrio è stato spezzato dal gran gol di Nicastro che ha nel suo repertorio e ha cambiato un po' le sorti di questa partita però abbiamo fatto un'altra buona prestazione contro una squadra forte e importante e adesso dobbiamo concentrarci da martedì sulla partita importante per noi qual è il derby col Fano. Sappiamo che era una partita difficile contro la prima della classe però abbiamo fatto la nostra partita, la prestazione c'è stata poi un pezzo di bravura loro, hanno trovato l'1-0 poi ci siamo abbassati e il secondo gol siamo stati sfortunati perché secondo me abbiamo preso due stancate la prima perché è uscito Strama e subito dopo in 10 abbiamo preso il secondo gol e siamo rimasti in 10 se Strama fosse rimasto in campo può darsi che neanche prendavamo il secondo gol e ce la giocavamo fino alla fine. Continua a vincere e convincere l'Ital Service che con la Cybertel Aniene conquista l'undicesimo successo consecutivo e mantiene la vetta della massima serie di calcio a 5 a più 3 sull'Acqua e Sapone. Contro Aniene a decidere il match del Palanino Pizza le reti di De Oliveira, Canal, Onorio e la doppietta di Borruto. E restando in tema di sport, questa mattina il sindaco di Pesaro Matteo Ricci assieme all'assessore allo sport Mila della Dora ha incontrato in municipio il pesarese Jordan Valdinoci appena laureatosi campione del mondo di kickboxing K1. Il neocampione è stato premiato dal Comune per il prestigioso risultato conseguito il 13 marzo a Monaco di Baviera e per aver affermato i valori dello sport onorando la città di Pesaro. Ricordiamo che Jordan Valdinoci del Fight House Pesaro ha conquistato il titolo di campione mondiale categoria 67 kg alla Stekos Fight Night in Germania battendo ai punti il turco tedesco Diyar Essen. E con lo sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera che comincia alle 21.15 con un'altra puntata del lunedì con il palcoscenico Marche, questa volta dedicata a Fiorenzuola di Focara. A seguire alle 21.30, ve l'abbiamo già anticipato con un estratto nel nostro TG c'è lo speciale sulla Onlus Gulliver e la donazione del defibrillatore all'Istituto Alberghiero Santa Marta appuntamento dunque questa sera alle 21.30. E con gli appuntamenti si chiude questa nostra edizione delle TG da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV. Grazie.